l'equilibrio dei tuoi veicoli il nuovo libro degli spiriti a cura dvb cerchio medianico k entità ospite questo non sia per te uno dei tanti incontri da assemblare l'uno all'altro ma chiarisca in te il fatto che più di ogni altra cosa è importante l'equilibrio dei tuoi veicoli come questo equilibrio sia raggiunto e relativo alla tua circoscritta creazione ma in effetti non esiste perché tutto è individualità e non individuo e non consapevolezza perciò procedi scostando un poco il velo che ti separa da tutto questo puoi puoi e ora non importa attraverso chi o cosa o quali via ma fallo ti prego è quello di cui dio se potesse parlarti e se fosse logico ciò che sto per dire ha bisogno perché ne hai bisogno tu e proprio tu sei quel dio che preghi che invochi nei momenti di dolore invoca i tuoi veicoli riequilibrandoli attraverso una vita equilibrata vissuta nella rettitudine il presente ti appartiene e prepara il futuro tenendo conto del passato per gli altri come questo avvenga non ha importanza ma fa che avvenga fallo questo è il tuo tempo non perderti dunque in cose che possono distoglierti dal creare questo fondamentale equilibrio entro i singoli sottopiani dei tuoi veicoli così facendo ritardi la tua evoluzione vivi vivi non importa come dove la via che tu segui ha per l'assoluto la stessa importanza della casa in cui abiti ma ti prego abbia una casa e non vivere per strada tuttavia ti dico quando anche tu vivessi per strada egualmente amato saresti dall'uno